Ciao a tutti, oggi è il terzo, quarto, terzo, quarto, quinto, non lo so, ormai mi sono perso, il quarto giorno in questa ormai città fantasma, ci apprestiamo a fare un nuovo spot, Bode purtroppo si è fatto male a ginocchio e ha bisogno di un giorno di pausa. Ma in compenso ci sono Plo e Tony che hanno trovato uno spot super figo, vedremo cosa succede. Come vedete c'è sempre un tempo splendido, spero che i video precedenti vi siano piaciuti, in caso vi lascio il link per chi volesse rivederli qui sopra, le consigliati, qui forse. Mi spiace non far vederli spot ma usciranno tutti nel 2018, sia nel video Salomon che in Real Snow X Games, quindi prima di quelle date non posso farvi vedere nulla, il discorso cambierà quando farò foto in fresca dove qualcosa in più potrò farvi vedere. Va beh, basta, vado a sparare, vado a sparare, faccio sparare gli altri, io faccio finta di sparare. Merda, che congelato. John, do you like the Italian coffee? Yeah, I like it. It's a lot, it's just a lot of foam. Foam. I like it. Bought two poses. One is of the dam, and then one is of the city, and I was like, well, if Bodhi gets a clip on the dam and then in the city, I was going to put these in the real snow, you know, film it 16mm and then develop it and put it in the edit and film it as, like, developing clip. Yeah. Sai me l'ha regalato questa? Tato. Ciao, Tato. Ready to film. Yeah. Non sbagliare, non sbagliare, non sbagliare. Ok, ho sbagliato. Yes. Wow. Wow. Parto con la natura. Che freddo, che freddo. Ah, ammetto però che lo snowboard mi ha provato a vedere dei posti meravigliosi. Non sono... Sono fortunato. Scrivetemelo nei commenti se... Scrivetemelo nei commenti se sapete... Scrivetelo nei commenti se riconoscete che posto è. Non sbagliare, Roby, non sbagliare. Ah, ho sbagliato. Classic. Non si dice. Sta staccando un brattolo, gli vedo se cadi. Almeno lo shot del giorno. Vai, bello. Ah, succede. Purtroppo, per adesso è andato male lo spot. Dopo se è stato costruito, non funzionava. Ora andiamo a vederne un altro e vediamo cosa succede. Ma do, quanto mi manca la powder però. Ma qua, qua. No! Cavolo, sembro veramente un ebete con la GoPro in testa. Me lo dicono anche tutti. Yes! Pisellino! Oh. Oh, oh, oh. No, 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 mi sono fischiato sui guanti. Non sono neanche riuscito a far la scritta. C'era un detto che diceva. Per quanto ti sgrollerai, l'ultima goccia cadrà sempre nelle mutande. Assolutamente vero. Uno, due, una, due, cinque chili, cinque chili. Pizzo. Poi la gente spende i soldi per andare in palestra. Vieni, vieni a fare il fotografo di snowboard. Vieni. Questi cazzi. Pausa. Ho fatto due metri. Dai, 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 dai. Pausa. Pausa, cavolo, sono proprio una sega. Simon Gruber me lo dice sempre, nonostante lui sia più sega di me. No, mi rendo conto di avere poca forza nelle braccia. Non andare in palestra. Ma anche no. Oddio. Pausa. Stavo pensando. Aspetta, aspetta, aspetta. Cazzo, la salita. Oh, yes, un attimo. Dai, 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 fermi tutti. Stavo pensando che questo blog meriterebbe una sigla. Vero? Cosa ne pensate? Ciao, Francesco. Ciao, Ricchi. Mi venite sempre in mente, eh, quando penso a queste cose. Ciao. Quando volete, inviatemela, eh. Cinque secondi, perfetta. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pranzo with a view. Non so se molti di voi lo sanno o meno, ma sono anche un appassionato di fotografie di montagna. Potete vedere nel mio Instagram qualche esempio. Il mio Instagram è questo qui, eh. Con la fortuna di trovare sempre i bei posti, trovo sempre un'occasione per tirar fuori qualcosina che mi piace. Sono panorami, ma mi piacciono molto le montagne. Che belle le montagne. Anche perché che palle al mare. Sembra il solito orizzonte, sembra la solita roba. Vuoi mettere qua nevica, freddo, sole, vento, aria, mille picchi diversi. La neve è troppo neve, il sole è troppo sole. Questi non si sono stretti così tanto che non riesco più a svitarli. Dimmi, 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 dimmi per favore che non è vero. No, è vero, no, no, gira, gira. Svitati, gira. Sì, ok. Cambia angolo, corri, 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 corri. Cambia angolo, corri, corri. Cazzo, non ci faccio più. Corri, corri, cambi angolo, corri, corri. Oh, la farò, eh. Cazzo, salgo. Tana, la miseria. Ok, sono caduto da qui a lì. Sbattendo quasi la schiena lì. Fantastico. Ready? Ready? E anche per oggi finita. Grazie del mestiere. Sì. Fabro dovevi fare. Sto non, Fabro. Visto cazzo. Fabrica cazzo. Eccolo. Fabrica fig. Sì, mi piacerebbe. Ogni tanto con Houston scopo anch'io. Giochiamo la carta cane. Cane anche. Cane e canietta. Biretta. Yippee. Bentornati amici. Non so manco più da quanti giorni sono in questo posto, in questa città fantasma. Con la lì. Gli altri stanno sparando e io con una scusa mi sono defilato. Trano, eh. Non succede mai. Oggi faremo altri due spot, uno che abbiamo già fatto ieri, un altro nuovo che è abbastanza l'incredibile. Bode si è ripreso ed è con noi quest'oggi. Teoricamente ne vedrete delle belle. Magari riesco a fargli dire due parole. Hello. Hello. In questa soleggiata e caldissima Milano. Per ora vi saluto. Date un'occhiata ai video precedenti se volete sapere di cosa si tratta questa serie. Madonna che freddo. Voglio queste. E siccome si trovano solo in America e la spedizione costa quasi più delle ciaspole stesse, se qualcuno volesse condividere e comprarle con me mi faccia sapere e facciamo una spedizione unica. Sono le migliori ciaspole al mondo, credo. Costano anche relativamente poco e in Italia non vengono distribuite, non si sa perché. Fatemi sapere. Ghiaccione! Ghiaccione! Allora qui, T-Bone! Ready? 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 Uuuuh! Uuuuh! Grazie. Cazzo, è un banana split. Ghiacciata. Minchia, è un castauro. Yeah! Tosh, bippami la minchia! Ready? Yeah! Yup! Uuuh! È un morso bastardo. Occhio, occhio! Ecco. Yes! Ok, non posso farvi vedere lo spot che stiamo faremo adesso, però magari un'occhiata veloce posso anche farla. Pronti? Vabbè, tanto lo vedrete su X-Game Real Snow. Non è per dire niente, ma è una roba gigante. Eh già, bode, bode, bode. Una diga, hai capito? Una diga. Non un portoncino di casa, una porta da calcio. Una diga. Una diga, cazzo. Ma quanto vorrei la mia tavoletta? Una diga. Oh, vabbè. That was so sick, bode. Wow. Yeah, bode. Assurdo. È bellissimo snoboardare, ma quando vedi cose del genere, pazzesco. Guardate X-Game Real Snow in febbraio e ve ne renderete conto. Assurdo. Thanks, bode. You have the best shot of my life, for sure. Really? Yeah, for sure. Thank you very much. Wow. Look at that. Look, this is the first, only single shot, and this is the entire sequence. Wow. Sick. Sick, so good. Oh, that's good. Assurdo, assurdo. Che cosa ho visto? Merda. Che cosa ho visto? Questa merda. Risotto, col vino e i fumi. Italia. America. Un litro di vino. Porcini. Cosa c'è? Angio? No. It's everywhere. Nel risotto. Really? Yeah, why not? It's another cheese. It's very good. Okay? Every single pizza place in North America has two things on every table. Parmesan and crushed red pepper. Oh my god. What? How is that ridiculous? Buono, eh? evita di mangiare i funghi perché non so se sono buoni quasi comestibile quasi comestibile no 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 hello yes dimmi qualcosa di chiusura per questa settimana meglio da andare a casa che giorni che beve l'acqua è la prima volta che lo vedo una settimana di casino anche a metterle via c'è problema chiuderà mai puoi portarle a casa Roby? no vai via no una è andata tutto finisce come è iniziato sei riuscito? no mi fai comodo sinceramente abbandonato da Johnny anche se dopo una settimana lo capisco anche per questo episodio è tutto lo shooting si è concluso con una stanchezza generale di tutti quanti spero che questi video vi siano piaciuti dal primo all'ultimo che vi siano piaciuti i posti e che vi siete fatti due risate perché alla fine quello che facciamo è questo senza tanti filtri vi invito a seguirmi a iscrivermi al mio canale qui sotto e a seguirmi per le prossime avventure che dovrebbero essere più basate sulla powder a breve spero tantissimo che nevichi anche vicino a casa mia in descrizione qui sotto vi lascio tutte le mie info e i miei social network soprattutto instagram dove pubblico quasi ogni giorno e così potete vedere anche le foto che faccio e niente ciao a tutti ciao ciao amici ciao 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 come dire mi hanno lasciato a casa da solo mentre loro vanno a spallare e io me ne vado e c'è solo una cosa positiva in tutto questo tutte queste sono mie tutte mie e io mi hanno lasciato a casa da solo